Accusato un valore durante la cena di sabato Alessandro D'Alcanto, l'allenatore dell'Arezzo è stato prontamente portato all'ospedale San Donato di Arezzo per accertamenti, dunque non sarà in panchina nella partita amichevole contro la Vispesaro. In programma, nelle Marche, a guidare la formazione Amaranto è l'allenatore in seconda, Giuliano Lamma. Dopo aver passato la notte sotto osservazione del personale medico, D'Alcanto è stato dimesso ed è potuto tornare a casa. L'allenatore Amaranto tornerà a dirigere la sua squadra alla ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì 29 agosto. La società sportiva Arezzo ringrazia per la grande tempestività e professionalità che è stata mostrata da tutto il personale del pronto soccorso aretino.